Buongiorno a tutti bentornati nel mio canale oggi vi porto con me al mercatino di San Nicola che è un mercatino di Natale che fanno nella mia città a me è sempre piaciuto tantissimo questo mercatino e quindi quest'anno volevo portarvi con me vedremo dei prodotti tipici vedremo dei prodotti fatti a mano realizzati a mano perché ci sono anche degli artigiani bravissimi e la cosa bella di questo mercatino è che tutto il ricavato viene poi dato in beneficenza quindi è veramente una bella iniziativa per la città è un mercatino veramente caratteristico ci sono un sacco di oggetti molto particolari insomma è veramente molto molto bello quindi io volevo portarvi insieme a me quindi andiamo insieme al mercatino di San Nicola entriamo al mercatino di San Nicola ci ritroviamo davanti il primo banchetto vi ricordo che tutte queste cose sono fatte a mano questo è un banco di penne che incide con il nome le personalizza queste sono le spezie questo è un banco che mi ricorda tanto il mio viaggio a Istanbul perché comunque lì c'era il mercatino delle spezie qui il contesto è diverso ma è comunque un banco molto caratteristico perché ha spezie di tutti i tipi poi andiamo avanti troviamo delle candele dei portacandele che sono realizzati a mano davvero molto belli è molto bravo questo artigiano c'è tutti gli anni andiamo avanti vediamo ancora candele realizzate a mano di tutte le forme qui utilizza anche la cromoterapia qui invece ci sono dei prodotti tipici quindi spezie sott'olio di tutto qui invece ci sono dei giocattoli in legno che attirano tantissime persone perché sono davvero carini e realizzati a mano quindi vi ricordo che in questo mercatino tutto quello che voi vedete è realizzato dagli artigiani quindi è fatto a mano e qualora gli artigiani vendessero qualche prodotto il ricavato verrà poi dato in beneficenza perché ogni banco appartiene ad un'associazione particolare ci sono le associazioni che si occupano di lotta contro i tumori ci sono le associazioni che si occupano di disabili ci sono veramente tantissime associazioni di tutti i generi che appunto si occupano di beneficenza di solidarietà di volontariato tutte le persone che voi vedete dietro al banco sono volontari e questi volontari insomma offrono il loro tempo per stare in questo mercatino e appunto dare tutto il ricavato poi in beneficenza per le associazioni qua vedete che ci sono i nomi delle associazioni questo è un sbagliatore fa delle sedie in paglia poi ci sono anche altri incontri eccolo qui qui abbiamo topolino per i bambini è veramente divertente vi faccio vedere un pochino il contesto generale vedete che ci sono dietro dei banchetti tipici fanno anche degli spettacoli per bambini per adulti fanno di tutto poi qua c'è un banco che è un po più sull'antico diciamo che vende bigiotteria sciarpe cappelli questo vende oggetti russi questo è bellissimo il mio preferito ha davvero delle cose bellissime è stupendo questo banco poi ci sono ovviamente tutte le cose dolci quindi biscotti cioccolatini pasta di mandorle papaya croccante e poi per i bambini c'è un angolo fantastico che è questo quello degli animali si divertono tantissimo a dare la paglia agli animali bambini ed è molto carino anche questo angolo soprattutto per loro qui abbiamo dei prodotti tipici salame di tutti i generi molto buono qui vi faccio di nuovo vedere un po il contesto generale i banchi lo sfondo qui abbiamo un macchinario che fa la farina per la polenta che buona che questi sono degli oggetti di bigiotteria poi insomma soprammobili oggetti da appendere che si possono anche appendere all'albero di natale qui abbiamo l'albero delle uova uova natalizie che è molto carino anche questo ci sono poi tutti questi banchi come vi dicevo che hanno degli oggetti davvero splendidi perché sono realizzati a mano poi comunque il fatto di sapere che sono gestiti da volontari questi banchi quindi persone che regalano comunque il loro tempo è davvero bella questa cosa questa iniziativa questo è il presepe tutti gli anni lo fanno e riprende degli scorci della città di genova quindi se fate caso vedete che c'è il mare la barca perché comunque ci sono tanti pescatori quindi insomma riprende un po questo è un diciamo una visione un po più generale vedete che alle mie spalle c'è il mercatino questo realizza oggetti in ardesia è molto bravo anche lui vedete che il mercatino comunque è molto carino nel suo contesto ci sono qua delle statuine per il presepe delle casette realizzate a mano qua invece ci sono prodotti tipici olive formaggio anche queste credo che vengano fatte a mano poi qui ci sono i liquori liquori realizzati appunto in modo artigianale sono veramente buoni io non so sono a stemia mi hanno detto che sono buonissimi qua ci sono i cioccolatini che sono ottimi veramente ottimi qua ci sono i biscotti c'è il miele ci sono le creme spalmabili ci sono le confezioni regalo quindi insomma in questo mercatino si possono trovare davvero regali per tutti i gusti questo è un formaggio che è veramente delizioso questo è un banchetto molto carino molto chic secondo me questo realizza delle candele delle candele a forma di stella cometa di presepe molto bravo qui ci sono oggetti in legno oggetti in porcellana oggetti in ceramica c'è di tutto qua c'è della bigiotteria fatta con il legno è molto carina anche questa questo vende cose tipicamente natalizie palline per l'albero di natale ad esempio questo è bellissimo ha delle lampade che fanno davvero una bella luce in oscurità questi sono oggetti realizzati in legno e sono da appendere sono possono essere utilizzati anche per l'albero di natale o comunque per la casa per abbellire la casa insomma sono carini questo è un altro banco che si occupa di costruire a mano degli oggetti in stoffa questo è il mercatino in generale questo è il banco di prima che vi dicevo fanno degli oggetti in stoffa tutti fatti a mano natalizi quindi palline strofinacci per la tavola insomma un po' di tutto questo è un angolo un po' più antico anche delle stoffe diciamo che questo mercatino è ottimo per fare dei regali di natale quindi voi potete confezionare i regali di natale con queste scatole bellissime e fare bellissima figura per il vostro regalo di natale questa è stata la mia giornata al mercatino di san nicola spero che vi sia piaciuto fatemi sapere anche voi nei commenti se vi piacciono i mercatini di natale se ce n'è uno in particolare nella vostra città che vi piace al quale magari tutti gli anni partecipate io vi mando un bacio enorme vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto mettete un like al video se vi è piaciuto vi do appuntamento alla prossima ciao a tutti